La società Adid fornirà 2.300.000 tamponi per un importo di 35 centesimi di euro l'uno, mentre la società Tron Group con la Hightech approvvigionerà a Regione Abruzzo dei terreni di trasporto in provetta. Si è chiusa oggi con l'aggiudicazione definitiva alla gara predisposta dall'ARIC per far fronte alle richieste delle ASL all'aumentare della necessità di effettuare test per la diagnostica del Covid-19. La procedura ha previsto una prima fase di manifestazione di interesse alla quale hanno risposto 11 ditte e successivamente una procedura negoziata urgente a cui hanno risposto 5 ditte. Due erano i lotti della procedura di gara. Il primo prevedeva l'acquisizione di tamponi, mentre il secondo riguardava l'acquisizione dei terreni di trasporto in provetta. Per quanto riguarda i tamponi si tratta di floccati che hanno caratteristiche tecniche riconosciute idonee dall'apposita commissione di tecnici. I tamponi saranno distribuiti a partire dalla prossima settimana 20.000 entro mercoledì per tutte le ASL e ulteriori 20.000 entro venerdì per un complessivo carico settimanale di 40.000 tamponi. L'ordinativo è già stato previsto nella giornata di oggi. La gara, nonostante la grande richiesta e la carenza dei supporti, ha consentito di mantenere il prezzo in linea con il mercato, sottolinea la regione. Per i terreni di trasporto in provetta, dice ancora regione Abruzzo, c'è stato invece un forte risparmio. A fronte del prezzo medio di 1,90 per provetta, la società ha offerto 79 centesimi di euro a provetta per un milione di provette e per una spesa complessiva di 793.500 euro a fronte di 2.185 posti a base d'asta, con un conseguente risparmio pari a 1.391.500 euro. La prossima settimana si avranno anche i terreni di trasporto in provetta e le relative forniture. I quantitativi richiesti sono stati indicati dal referente sanitario regionale sulla base delle esigenze delle aziende territoriali. La committenza dell'ARIC ha anche avviato altre cinque procedure, tre per l'ASL di Teramo e due per quella di Pescara, per il potenziamento e il rafforzamento delle strutture della rete Covid. La conclusione delle procedure, a cui ne seguiranno altre, è prevista per l'inizio della prossima settimana. In un momento di carenza generale in tutta Italia dei tamponi, ha sottolineato il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, la regione riesce a soddisfare la richiesta proveniente dalle aziende sanitarie del territorio, riuscendo a garantire un notevole risparmio della spesa prevista che permetterà di agire ulteriormente in difesa della salute di tutti gli abruzzesi.